Per la prima volta dal dopoguerra Un'idea diversa di Canone che non solo lo barba all'ottaggio ma vince il primo turno e distacca la concorrenza di 17 punti Dopo 5 anni mi ritrovo nello stesso posto di quando quella sera del 2019 abbiamo festeggiato una grande vittoria Che è stata di cambiare questo comune Canone che è soprattutto portare una ventata di aria nuova, di aria fresca Ma questa vittoria è ancora più forte di quella del 2019 e ci dà una responsabilità ancora più grande